E' la rivincita dei nerd. Sulle calde spiagge di Venice Beach, in California, terra del sole del surf e di Baywatch, il colosso digitale Google sta espandendo il proprio dominio, a scapito del muscolosissimo popolo indigeno. L'azienda di Mountain View ha infatti acquistato oltre 9200 metri quadrati di edifici nella cittadina marittima vicino a Los Angeles, inclusa la Gold's Gym, la palestra che nel 1968 diede alla luce il culturista per eccellenza Arnold Schwarzenegger. A nulla è evalso il tentativo cittadino di boicottare la vendita e neppure le commoventi parole dell'ex governatore californiano. E' la vendetta dei nerd, dice, quelli che venivano rinchiusi negli armadietti dai compagni di classe più forti. Il popolo dei bodybuilder dovrà rassegnarsi a convivere tra sfigati con occhialoni, bretelle e classiche camicie a quadrettoni, con la coscienza che, tra muscoli e cervello, a vincere non è sempre la forza.